ciao un caro amico che saluto mi ha scritto giorgio perché non spieghi che tu parli al nome tuo allora parlo al nome mio per me già sai c'è quelli che parlano di krishna di gesù di buddha di allah parlano al nome di geova io nel corso degli anni ho letto un sacco di libri dei libri che dicono dio non ti tradirà mai gesù ti ama allah vuole che tu faccia questo buddha ha insegnato che devi fare questo e poi ci sono quelli che siccome parliamo di krishna 5.000 anni fa buddha 2.500 anni fa gesù cristo 2.000 anni fa dopo è venuto maometto col corano insomma stiamo parlando di persone che parlano al nome di qualcuno io specifico parlo solo a nome mio quindi se qualcosa di quello che dico ti interessa grazie se vedi che faccio qualche errore dimmelo scrivimi educatamente rispondo e tante cose possono essere dette l'importante che ognuno onestamente condivide le proprie realizzazioni materiali e spirituali qual è la differenza tra condividere realizzazioni immateriali se io so suonare la chitarra ti insegno il piano ti insegno a cucire a cucinare condivido con te delle realizzazioni materiali ma se io ricordo le incarnazioni precedenti non sono l'unico e ti spiego cos'è la reincarnazione ho scritto un libro ti consiglio la scienza eterna della reincarnazione se lo vuoi e lì oltre che parlare a nome mio lì però cito tante persone non perché io voglio parlare a nome loro per far vedere che non è vero che la reincarnazione è un'invenzione della new age della nuova era che qui da qualche decennio qualcuno straparla di reincarnazione di reincarnazione nel pianeta terra si parla da migliaia di anni io quando dico che ricordo ho scritto due libri leggili se vuoi appunto ripeto sono gli antichi maestri sono ancora vivi e incontro con la chiara luce e lì parlo proprio a nome mio e nient'altro quindi se ognuno parlasse a nome suo pensate che quando socrate socrate parlava a nome suo faceva paura perché diceva io ho una certezza ho una conoscenza so di non sapere cioè quando diceva di non sapere non è che non sapeva come si chiamava di non avere una spiegazione del tutto parlava del mondo delle idee parlava di qualcosa di grande di cui non aveva una conoscenza diretta e quindi chi governava ad atene ha visto lui come un pericolo perché parlava a nome suo invece lui doveva già allora ad atene secoli prima di cristo adeguarsi a quello che oggi chiamiamo il sistema matrix la società ha il controllo quei pochi quei pochi che controllano molti non sanno cosa vuol dire la parola oligarca di cui si parla oggi arca arca vuol dire il potere nelle mani oligos di pochi quindi un oligarca è uno dei pochi che ha il potere questo oligarchia cioè tenere il potere nelle mani di pochi c'è sempre stato invece la democrazia dovrebbe essere il potere nelle mani di tutti e secondo me in una vera democrazia chi prende più voti dovrebbe dirigere i ministeri più importanti e chi prende meno voti quello meno importante però tutti dovrebbero essere secondo me parlo a nome mio coinvolti nel governo altrimenti stare all'opposizione non vuol dire niente perché ho parlato con alcuni politici che stanno all'opposizione e loro qualunque cosa fa il governo devono parlare contro anche se personalmente intimamente sono favorevoli quindi tutti dovrebbero essere coinvolti nel governo come gli adulti gestiscono la scuola ma la scuola esiste perché ci vanno i bambini i ragazzi però non puoi fare una scuola gestita dai ragazzi allora chi ha più conoscenza gli antichi romani erano senato senatus popolusco e romano gli anziani hanno più esperienza insegnavano i giovani allora uno era anziano a 50 anni all'inizio del secolo scorso al 1900 l'età media era 50 anni oggi 80 quindi in un secolo la media è cresciuta di quasi 30 anni e qualcuno dice che possiamo vivere nella forma umana se stiamo attenti fino a 100 110 120 anni di cui però gli ultimi 20 30 non da malato da persona che cammina che parla che ragiona che vive quindi parlo a nome mio e dico che l'alcol fa male adesso cosa succede che da quando io dico che l'alcol fa male nei video studi medici scientifici dicono l'alcol l'etanolo fa male ma non è che uno dice è come la nicotina fa male quindi se uno fuma una sigaretta fa male si fa del male se uno beve un bicchiere di vino un aperitivo un alcolico si fa del male però cosa vuol dire ah ma non è vero no no è scientificamente accettato no e perché scientificamente perché ci sono delle nuove generazioni di scienziati di ricercatori di professori universitari che non vogliono più mentire neanche a se stessi però se c'era il professore universitario lo scienziato che uno o due bicchieri di vino se li fanno adesso parlo del digiuno intermittente io lo faccio cosa vuol dire salto la cena oppure leggerissima cosa vuol dire che man mano che andiamo verso il tramonto è meglio mangiare poco o niente soprattutto dopo il tramonto quando non c'è la luce nel cielo l'intervallo tra l'ultimo pasto della giornata e il primo della giornata successiva dovrebbe essere 12 ore attenzione quindi se uno mangia tra le 8 e le 9 finisce alle 9 dovrebbe mangiare il prossimo alle 9 invece ma le 9 sono già lavorare allora mangia prima eh ma il bello della cena il bello della cena è che ti accorcia alla vita il bello della cena è che tu vivi male sto parlando solo a nome mio eh quindi io sto bene quindi si consiglia di stare tra le 12 e le 16 ore tra l'ultimo pasto della giornata e il primo di quella successiva minimo 12 ore ma anche 16 perché poi tra le 12 e le 16 ore si chiama autofagia il corpo elimina meglio nelle prime 12 ore digerisce trasforma tutto nelle successive ore dalle 12 alle 16 ore a digiuno elimina sostanze tossiche cellule morte cellule cancerogiche oramai non lo dico solo io lo dice anche la scienza grazie